Ben trovati a Memeconomics, nuovo appuntamento con i meme che raccontano l'economia, la finanza, l'attualità, la politica e lo facciamo con i nostri meme ma anche con i meme che recuperiamo dal web. Due i temi di questa settimana e non possono essere altri, Mario Draghi e poi anche il caso GameStop e quindi lo short squeeze di cui si parla tanto in questi giorni. Partiamo da Mario Draghi, partiamo da Draghi che viene convocato al Quirinale. Come arriva questa notizia? Ecco che il web si scatena. In che modo? In un modo soltanto e per noi viene in aiuto Toy Story, meme sul trono di spade con Mario Draghi, meme sul trono di spade con Mario Draghi ovunque. Chissà perché poi, forse perché insomma c'è la protagonista che è la madre dei Draghi, però insomma ci è sembrato un po' troppo, come dire, semplicistico utilizzare questa via. Ad esempio, guardiamo qua, ecco, Daenerys barca in Italia, ma poi perché Daenerys? Non si vedono neanche i Draghi, non si vede neanche Mario Draghi, però abbiamo recuperato anche questo con l'occhiello, lo vedete in giallo, golpe comunista in corso, Renzi in fuga, crolla la borsa Draghi su Roma. In realtà non è successo peraltro nulla di tutto questo, perché la borsa non crolla ma è schizzata verso l'alto. Draghi su Roma, ma ovviamente questa è una buona notizia per i mercati evidentemente e poi insomma Renzi non è in fuga, anzi potrebbe far parte del governo. Andiamo avanti, vediamo altri meme che abbiamo raccolto dal web al limite insomma della comprensibilità, ad esempio Mattarella che dice Dracaris, ma poi perché deve dire Dracaris, proprio Sergio Mattarella, a parte il fatto che sarebbe andata a finire male se siete degli attenti osservatori della serie televisiva. Comunque sì, insomma, vediamo anche che altro abbiamo visto, perché questo ad esempio è molto efficace. Mario Draghi nel ruolo di uno dei Draghi di Game of Thrones che fa piazza pulita e questo è uno dei timori o una delle speranze di una determinata fetta della popolazione. E quindi piazza pulita, fiamme su, Alitalia, bonus nonni, sistema sanitario nazionale che si è mostrato inevitabilmente inefficace o quantomeno ha mostrato delle lacune nella gestione della pandemia. La RAI, immagino ho inteso la tassa relativa al canone, quindi il canone RAI, reddito di cittadinanza, bonus vacanze. Insomma, questa, ripeto, è una delle speranze bar timore di alcuni italiani su quello che potrebbe fare Mario Draghi non appena salirà, entrerà definitivamente a Palazzo Chigi. Vedendone altri di meme, scopriamo come appunto Piazza Fari abbia reagito particolarmente bene. Quando è venuta fuori la notizia, Mattarella appunto convoca Draghi al Quirinale, compiaciuta, maliziosa quasi, guardando lo sguardo appunto di Shaquille O'Neill in un vecchio presa, uno dei meme più utilizzati, specie all'estero, estrapolato da una vecchia pubblicità. Quindi buoni effetti sui mercati da parte di Mario Draghi con il suo arrivo al Quirinale e poi a Palazzo Chigi. Andiamo avanti, vediamo che cosa c'è di altro sull'arrivo appunto dell'ex presidente della Banca Centrale Europea. Ecco, come sapete, insomma, a noi piace utilizzare il basket perché ci aiuta a spiegare sostanzialmente tutto quanto e questo è assolutamente efficace. Sergio Mattarella nei panni di Dwayne Wade che allarga le braccia perché ha appena rifilato un assist meraviglioso a Lebron James che è in presa volante, in schiacciata volante nei panni di Mario Draghi. Questo sostanzialmente è l'assist di cui evidentemente l'Italia aveva bisogno. Per qualcuno non dovrebbe esserci Mattarella nel ruolo di Dwayne Wade ma Matteo Renzi. Comunque, insomma, il messaggio è abbastanza chiaro. Andando avanti appunto con il racconto della settimana attraverso i meme, vediamo come ci sia questo meme che non è nostro, che racconta in maniera molto efficace uno dei timori maggiori insomma che arriva da chi evidentemente fino a questo momento ha percepito il reddito di cittadinanza. Basta uno schiocco di vita da parte di Draghi, un po' violaceo nei panni di Thanos, il villain, il cattivo degli Avengers ed ecco che il Bancoman, insomma la tessera che serviva per incassare il reddito di cittadinanza, si sbriciola con un triste, decisamente triste Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark con il cappello del Napoli. Questo perché dopo pochi mesi dall'inizio della distribuzione del reddito di cittadinanza un'indagine ha rivelato come soprattutto arrivavano richieste da Napoli e provincia. Gli autori di questo meme sono i ragazzi, gli autori di Sesso, Droga e Pastorizia. Andiamo avanti perché di Draghi si continua a parlare anche in maniera un po' più, come dire, efficace per quanto riguarda le elezioni anticipate. Questo è un meme che abbiamo realizzato sfruttando questo momento di gioco piuttosto non proprio nella direzione della non violenza. Abbiamo Mario Draghi nei panni del giocatore che tira un calcio verso le elezioni anticipate perché di fatto era una delle ipotesi dopo le dimissioni di Conte, specialmente sostenuta dal centrodestra, Mario Draghi con una pedata, evidentemente allontana l'idea delle elezioni anticipate con buona pace di chi sperava in esse e forse meglio così, dato che comunque è in corso una pandemia e il voto online, il voto via posta, abbiamo visto che cosa ha comportato negli Stati Uniti e abbiamo forse anche una vaga idea di cosa potremmo organizzare in Italia se dovessimo provare con un voto via posta o appunto online. Vediamo il prossimo meme che ci fa immaginare Mario Draghi nel momento in cui cominciano i lavori, sono già iniziate le consultazioni e si ritrova davanti Mattarella che gli dice signor Draghi ecco qua le presento Casalino, Azzolina, Di Maio, Bonafede. La reazione di Draghi potrebbe essere stata questa, un po' quasi fantoziana come a dire, oh mamma mia chi sono questi personaggi che volenti o nolenti comunque hanno governato il paese insomma per un paio d'anni e soprattutto sono stati personaggi Rocco Casalino a parte votati dal popolo, quindi insomma è anche giusto che sia stato così, però quella reazione di Draghi non escludiamo possa esserci stata, quantomeno magari lo ha pensato, poi insomma ovviamente le consultazioni si sono svolte in maniera più serene insomma di quanto racconti questo meme che però è assolutamente efficace. Il prossimo, siamo sempre su Mario Draghi, siamo sempre su Rocco Casalino perché qualcuno sarebbe domandato, ma quindi Casalino sarà il portavoce di Mario Draghi? Idea non del tutto sbagliata nel senso che in determinate situazioni potrebbe avvenire anche questo, non sarà il caso di Mario Draghi che evidentemente troverà un altro rappresentante, un altro portavoce, anche perché comunque Giuseppe Conte dovrebbe rimanere all'interno delle figure a favore del governo che sosterrà il governo e quindi Rocco Casalino dovrebbe rimanere in area Giuseppe Conte. Draghi, sempre lui protagonista da anche del prossimo meme, lui e Renzi in realtà, perché non dimentichiamoci che se siamo arrivati a questo punto lo si deve allo strappo deciso da Matteo Renzi. Per qualcuno è stata una mossa geniale, per altri invece è stato qualcosa che non doveva fare, aprire una crisi in pieno periodo di pandemia. Però a questo punto che cosa dobbiamo aspettarci da Matteo Renzi? Che si defila o che quattro quattro insomma si avvicina con l'espressione geniale, meravigliosa di questa giornalista, la foto l'abbiamo recuperata da Movimento 5 Litri, come dire, consultazioni, quando Draghi incontra Italia Viva magari Renzi gli fa un occhiolino, gli fa quell'espressione un po' aum aum come detto, magari un posto nel governo lo vuole e quindi insomma senza saperne leggere né scrivere fa capire a Mario Draghi quali sono le sue vere intenzioni. Vedremo. Di sicuro una cosa è certa e lo vediamo dal prossimo meme. Tutti parlano di Draghi, tutti parlano dell'idea che magari Draghi possa accettare, non accettare, che magari possa avere la maggioranza, anzi no, quello lo vediamo dopo. Questo è ancora più bello. Riguarda ancora Matteo Renzi, vediamo Stallone protagonista. Ci siamo immaginati Renzi durante la crisi di governo. Come sappiamo, come abbiamo visto anche nel corso dei talk show, insomma, al leader di Talaviva Giuseppe Conte proprio non va giù. Insomma, è indigesto, non lo sopporta, cerchiamo di essere ancora più diretti. Per cui ci siamo immaginati l'espressione che può aver avuto quando è stato nominato Premier con una maggioranza Movimento 5 Stelle e Lega, che sono due partiti che a Renzi, anche in questo caso, diciamo che siamo davanti al giorno e la notte, insomma, nemici politici di Renzi. L'espressione è quella di Stallone in over the top, quando fa braccio di ferro con gente più grande e grossa di lui. Poi figurarsi quando c'è stato il Conte Bis, quando c'è stato lo strappo della Lega, ed è stata trovata la maggioranza PD Movimento 5 Stelle. Non a caso poi Renzi si è staccato diventando di Talaviva. Anche in questo caso vediamo l'espressione di dolore da parte di Sylvester Stallone. Non so se qui siamo in Rocky o ancora in over the top. L'idea che si potesse andare a ipotizzare un Conte Ter, perché si è parlato di Conte Ter, francamente l'espressione dolorosa di dolore di Matteo Renzi nel terzo riquadro probabilmente avrebbe raggiunto il climax maggiore. Questa cosa non è successo, perché come detto c'è Matteo Renzi e stavolta sì, andiamo alla domanda che anticipavo prima. Tutti a chiedere, ma Draghi accetterà l'incarico, avrà i numeri, ma è nessuno che mi chieda, questo è il meme di TML, degli amici di TML, Mario come stai? Poi secondo me, anche se glielo si chiedesse, lui avrebbe quella capacità diplomatica che ha mostrato come Presidente della BCE e che mostrerà anche come Presidente le consiglio che sarebbe capacissimo di non rispondere alla domanda come stai, riuscirebbe a intortare l'interlocutore e alla fine l'interlocutore se ne va e dice ma alla fine chi mi ha detto che sta bene o che sta male? Non lo sapremo mai. Chiudiamo i meme su Mario Draghi e andiamo a concentrarci sull'altro tema della settimana, che è quello dello short squeeze, dell'operazione dei retail sul mercato che sostanzialmente hanno sfidato Wall Street, anche se prima c'è un ultimo meme che vorrei farvi vedere, perché su Mario Draghi abbiamo detto che c'è ottimismo, però ci sono un'ampia fetta della popolazione che è ancora molto affranta e dell'idea che la politica non servirà ancora a niente, che comunque alla fine in qualche modo saranno gli italiani a prenderla in quel posto, ci permettiamo di usare questa espressione. Tanto vale allora che con la politica si debba chiudere, chiudere definitivamente, come dice questo cartello, chiuso per chiusura, è un cartello che esiste, che abbiamo raccattato dal web, credo che per certi versi molti italiani vorrebbero che questo cartello venga applicato alla politica. D'altra parte nel pieno di un'emergenza pandemica effettivamente mentre il Regno Unito raggiunge il record di vaccinati e mentre gli Stati Uniti i vaccinati superano i contagiati, in Italia si fa la lotta per le poltronne, sicuramente non un bel biglietto da visita, ma come dicevo poco fa, voltiamo pagina, vediamo l'altro argomento che è quello di GameStop, che è quello del share squeeze, quello dell'operazione dei retailer, dei piccoli investitori che hanno provato a sfidare i hedge fund, i fondi istituzionali sul loro campo, proprio su Wall Street e questo racconta un po' quello che è successo, i singoli piccoli trader da soli si fanno mangiare insomma dal grande investitore, ma do not panic, organize, se si organizzano ecco che le cose potrebbero cambiare. Per qualche giorno è andata così, GameStop ha raggiunto livelli stellari, poi le cose sono leggermente cambiate e in pochi giorni si è tutto calmato e questo porta al successivo cartello che ci ricorda un po' la legge di Murphy, cioè i piccoli retailer potrebbero anche organizzarsi, in questo caso gli amici di Wall Street bets contro gli hedge fund, ma di sicuro se c'è un modo in cui tu puoi in qualche modo rimanere fuori da questa operazione e essere mangiato ci sarà, è infatti esattamente quello che ci mostra questo cartello, i piccoli retailer che vanno a mangiarsi gli hedge fund ma che comunque è lì sulle tue tracce e quindi non sei riuscito a far parte dei piccoli investitori, dei Wall Street bets e quindi fai la fine che avresti fatto comunque, eccola qui la legge di Murphy. Ma c'è un altro meme che ci racconta un po' quello che è accaduto sul fronte GameStop e sul fronte appunto della sfida tra Reddit e Wall Street, che alla fine come detto l'hanno vinta gli hedge fund, alla fine GameStop è tornato, non dico ai livelli precedenti, ma a livelli accettabili dal mercato. Quindi eccolo qui il caso GameStop, ancora una volta ci affidiamo alla pallacanestro, questa è una foto che arriva da chiamarsi Minors, pagina molto divertente, e vede gli hedge fund che sono grandi e grossi e gli utenti Reddit che sono piccoli e hanno avuto la faccia tosta di sfidare e di marcare l'edge fund ma che alla fine in qualche modo inevitabilmente se li sfidano, insomma se sfidano l'edge fund sullo stesso campo è difficile averla vinta, come racconta esattamente questa fotografia. Questo è Memeconomics che finisce qui, grazie per averci seguito, speriamo di avervi strappato un sorriso anche questa settimana, ci vediamo alla prossima puntata.